uno live ciao a tutti bentornati sul canale della truffle academy fu truffle for dummies come per il terzo mercoledì di seguito tra un po' inizierò a dire come ogni mercoledì siamo in compagnia di sergio mustica micologo appassionato di tartuffi abbiamo già fatto una prima puntata di apertura sul bianco mercoledì scorso abbiamo ripercorso un po la storia del tartufo dagli albori abbiamo iniziato a parlare nelle due dirette di ecologia del tartufo intanto ti saluto ciao sergio buonasera buonasera davide buonasera a tutti stasera invece andremo a buttarci in un grande dilemma del grande dilemma del tartufaio tartufo estivo tuber estivum e tuber uncinatum sono due specie sono la stessa specie sono variante ognuno ha un po la propria idea ma anche come catalogazione spesso si almeno nei libri delle volte si trovano come varianti delle volte separati e andremo un po a fare chiarezza su questo punto ci con con sergio per fare questo poi andremo anche a riprendere una parte riprenderemo anche una parte di ecologia del tartufo so che poi c'è anche delle slide da farci vedere però sostanzialmente l'argomento è questo prima di iniziare come sempre ringrazio tutti i patrion di truffle for dummies che permettono al canale di stare in piedi con dei contributi piccoli e grandi vi ricordo che per chi non vuole appoggiarsi alla piattaforma patrion qua sotto la chat c'è un disegnino con un dollarino cliccando la sopra potete mandare un adesivo un commento in evidenza a sostegno del canale ed è il benvenuto se non siete ancora iscritti al canale fatelo visto che la maggior parte più del 50 per cento di chi segue i nostri video non è iscritto al canale vi costa niente gratuito e ricevete anche le notifiche poi dei nostri prossimi contenuti da sotto c'è un bottoncino cliccate su iscriviti e restate sempre aggiornati sergio allora andiamo a introdurre l'argomento della serata certo buonasera a tutti grazie grazie per seguirci come sempre ora questa sera abbiamo deciso con davide di di parlare di un argomento che immagino tutti gli appassionati di tartufi e tutti quelli che comunque si hanno la passione della micologia comunque sia sono dei micofili si saranno si saranno chiesti ossia se il tuber restivum e il tuber uncinatum sono la stessa specie sono la forma la varietà al morfo tipo un'altra specie siccome mi sembra di capire anche seguendo altre dirette in passato che ho seguito sempre con davide con gli altri suoi ospiti che questa cosa magari non è sempre chiarissima ho pensato e ho proposto anche a davide di approfondire di approfondire questo discorso allora per cominciare prima di andare ad adentrarmi sulle affinità o le differenze di questi di questi due tartufi io sarei per introdurre un pochettino più nel dettaglio la descrizione di che cos'è il tartufo e di come di come si sviluppa all'interno all'interno del periodo di recetazione per poi andare andarmi a distaccare e a parlare un po più nel dettaglio del dell'argomento del giorno per chi non ci ha seguito nelle scorse due dirette abbiamo già anticipato che cos'è un tartufo e lo ripeto lo ripeto velocemente il tartufo è un fungo ipoceo della divisione ascomicota ossia una ascomicete ascomicete che cosa che cosa significa è un fungo che si riproduce con le spore che sono contenute in delle cellule chiamate aschi il tartufo oltre a essere una ascomicete è anche un fungo ipoceo ossia che vive al di sotto del livello del terreno e poi anche la ragione per cui utilizziamo dei cani e con il loro olfatto possono scovare i tartufi grazie all'odore quindi ai composti che vengono emanati in fase di maturazione dell'ascocarpo che ripetiamo per chi non ci ha seguito è il corpo fungino quindi è il tartufo in sé per sé il tartufo oltre a tutto quello che abbiamo detto finesso è anche un fungo simbionte ossia stringe dei legami di simbiosi con delle piante superiori che cos'è una simbiosi è un è la modalità biologica con cui due organismi viventi sopravvivono e hanno degli scambi nutrizionali vantaggiosi per entrambi la simbiosi nella micologia o comunque sia nel nel dominio dei funghi porcei dei tartufi viene si concretizza con la micorrizza la micorrizza è l'unione di apparato radicale e diciamo il corpo poi cetativo del fungo che è composto presso che da micelio che è un tessuto è un insieme di ife e le ife a sua volta sono un insieme di cellule fungine poi adesso senza entrare troppo nel dettaglio i fe settate e viene creata una microclena ossia un reticolo una guaina che avvolge gli apparati radicali delle delle radici e questa microclena quindi come abbiamo già visto in passato con il reticolo di herting letto micorrizza e quindi le cellule fungine che si vanno a disporre al di fuori delle cellule vegetali senza entrare creano la micorrizza che poi quella che permette di di vegetare al fungo e di fruttificare attraverso attraverso le ife fruttifere io davide se tu sei d'accordo ti chiederei di condividere una slide con un con il ciclo stagionale in questo caso purtroppo l'ho trovato soltanto i tuber melanosporum perché tra l'altro è anche il ciclo il ciclo più studiato per ragioni economiche quindi in tartuficoltura si è investito molto di più che negli altri tartufi anche se negli ultimi anni si sta investendo molto anche appunto sul tuber estivum quindi da un verso anche sul tuber uncinato un po approfondiremo più nel nel seguito della diretta e quindi si sta investendo anche su questi però storicamente si è investito di più sul tuber melanosporum perché comunque sia un prodotto più più vendibile sul mercato si piazza sicuramente si piazza sicuramente meglio rispetto al tartufo estivo all'uncinato allora non so si vede si vede tutto devo rimpicciolire ingrandire allora non si leggono bene le scritte si ingrandisce un pochino poi puoi scorrere mentre perfetto perfetto ok allora questo qui diciamo che rappresenta questo vale rappresenta la l'annualità primavera estate autunno inverno come potete vedere e si parte dalla dalla germinazione delle spore che per il tuber che per il tuber melanosporum accade all'incirca accade all'incirca marzo marzo aprile avviene insomma la germinazione poi si dalla germinazione delle spore con polarità sessuale opposta si genera il micelio che poi raggiunge le raggiunge gli apparati radicali periferici si crea la micorrizza e si e si creano le nuove micorrize e come abbiamo già detto quindi l'insieme di micelio e apparato radicale le piante superiori le le micorrize se la stagione come abbiamo già detto nelle scorse nelle scorse dirette se la stagione favorevole se ci sono le precipitazioni volte ad effettuare appunto la carpocenesi che è la cinesi del corpo fruttifero tendono a germinare e a dare quindi le le micorrize diventano eh micorrize vegetative eh e praticamente per vari processi riproduttivi tra cui ricordiamo ne ricordiamo uno che eh il principale è la gametangiocamia che poi magari potremo approfondire in un'altra diretta si crea un si crea un primordio e e diciamo che al fine primavera inizio estate abbiamo già una in micologia si dice abbozzo primordiale di quello che poi sarà il futuro carpoforo ecco in questa fase eh il tartufo si comporta come un un fungo simbionte la peculiarità del tartufo è che appunto nel ciclo nel suo ciclo di vita ha una fase simbiontica che è quella che appunto per il tuber melanosporum va dalla la germinazione delle asco spore fino al allo stadio apotegioide che che finisce con la primavera dopodiché c'è una una fase una fase saprofitica eh i funghi saprofiti o saprotrofi sono quei funghi che non non stringono un legame con gli apparati radicali di una pianta quindi non hanno gli scambi biologici nutrizionali propri della simbiosi ma si nutrono di sostanze di nutrienti che trovano nel terreno oppure in alcuni casi che riescono a scomporre con determinate con determinate sostanze che sono frutto del loro del loro metabolismo e quindi diciamo che a inizio dell'estate inizia per sempre per tuber melanosporum immaginatevi per il tuber estivum e per il tuber uncinatum che poi vedremo essere tra l'altro la stessa specie e vi dovete immaginare questo questo diagramma ruotato sui mesi dell'anno perché ci hanno dei diciamo che la fase vegetativa non coincide come mesi ma comunque sia di di principio il concetto lo stesso quindi diciamo a inizio estate inizia la fase saprofitica che è quella in cui il lasco carpo il carpoforo il tartufo inizia a crescersi e un secondo che scorro che non si vede in autunno iniziano iniziano a formarsi la scospore e poi in inverno c'è la maturazione del corpo fruttifero e quindi la l'inizio delle emanazioni a parte del tartufo che poi è quello che i nostri cani vanno a ricercare allora una cosa su cui volevo fare su cui mi volevo focalizzare un secondo è questo diciamo sotto schema non so se vedete il mio mouse che si muove esatto questo sottoschema in cui praticamente ci sono delle micorrize in pausa delle micorrize che continuano a crescere e delle micorrize quescenti quindi il discorso è che il fungo non non è che va ad avere un ciclo vegetativo univoco ma ci sono delle micorrize che fanno il proprio ciclo vegetativo altre che per ragioni ambientali dico all'interno della stessa fungaia scusate la stessa tartufaia della stessa pianta quindi diciamo nello stesso apparato radicale che svolgo che hanno dei cicli vegetativi diversi delle ife che per alcune delle ife scusate delle micorrize che per alcune ragioni vanno a diventare fruttifere e delle altre che non diventano fruttifere quindi ci sono determinati tempi traslazioni temporali che fanno in modo che per dire i tartufi non si trovano tutti nello stesso periodo ci sono varie fasi di maturazione per dire in questo caso nel tubero benanosporum ci saranno i tartufi che verranno ritrovati i primi mesi di dicembre e poi ci sono quelli che inizieranno a maturare a fine febbraio marzo quindi c'è una traslazione tra l'altro questa cosa è molto importante per andare a demarcare i danni che vengono fatti dai cosiddetti zappatori ossia coloro che vanno a raccogliere i corpi fruttiferi nelle tartufaie senza l'osilio e il cane ma andando diciamo concedermi il termine a criminalizzare un po' i luoghi di nascita allora il danno che viene fatto è enorme perché allora se gli zappatori fossero dei chirurghi ossia andassero a prendere il corpo fruttifero puntualmente dove si trova senza fare buche senza scavare senza andare a danneggiare quello che è quello che è il pianello quella che è la pastura il danno alla tartufaia sarebbe relativo allora il gesto sarebbe discutibile dal punto di vista dal punto di vista diciamo etico di senso civico perché poi questi tartufi acerbi vanno ad alimentare dei business e dei dei mercati del tartufo che per mio modo a mio modo di vederla sono discutibili però questo è quello che penso io perché un tartufo che non sa di niente un tartufo acerbo può finire soltanto in una salsa con degli aromi però ecco di sicuro non tende a valorizzare il prodotto e non tende a valorizzare il mondo del tartufo però questo è un discorso che si può fare si può fare anche un'altra volta però il discorso è che non avendo la certezza di dove è il tartufo si vanno a fare una serie di danni che consistono in uno shock microclimatico perché quando io vado a togliere terra in un mese estivo mi entra la celata all'interno delle buche vado a dare uno shock di tipo climatico perché quando si raccoglie il tartufo il tuber melanosporum comunque sia i tartufi invernali uno va a tartufi e magari la mattina scende sotto zero non si sa di quanti gradi la temperatura uno va a aprire una buca di 20 cm e 20 cm sotto la temperatura non è che scende di zero che va sotto zero c'è uno shock climatico quindi si fanno enormi danni tra l'altro ci stanno tutta una serie di micorrize crescenti come vedete nello schema che ho condiviso che quelle magari il prossimo anno sarebbero entrate in fruttificazione già belle formate che stanno lì vivono e non danno fastidio a nessuno stanno sotto terra e poi magari quell'anno non hanno fruttificato perché non avevano raggiunto il punto di maturazione da crescimento per diventare insomma delle delle ife fruttifere però comunque sia con queste pratiche si anneggia quindi il mio il mio consiglio che poi non è in consiglio anzi il mio eh il mio ammonimento per endorio è quello di andare a tartufi con i cani raccogliere ricordiamo anche che per legge in italia almeno non c'è altro modo lecito di andare a tartufi che non sia con i cani quindi oltre a fare un danno state anche commettendo un illecito ma principalmente è il danno che viene costituito volevo farti una domanda Sergio restato anche sui entrando nel campo del del mio cugino mi ha detto che però nel mondo del tartufo e dei fumi in generale spesso all'interno di questo schema il fiorone dove si colloca cos'è il fiorone eh ok allora in questo schema il fiorone si colloca si colloca nella parte tra autunno e inverno e diciamo fine dell'estate e sono eh ok sì quindi diciamo che il fiorone si colloca in tutta questa fascia qui fino all'inizio dell'inverno che poi comincia il periodo di vero e proprio di maturazione in cui si trovano dei tartufi che eh il cane trova non sono maturi tendono a avere quel colore parlo sempre tu per melano sporo un po' rossiccio eh ancora rossiccio quindi non nero rugginoso il il periodo non è nero rugginoso come in fase maturativa il cane li sente però non sono propriamente fioroni ecco in autunno in tarda estate invece si trovano quelli che sono i fioroni che sono delle fruttificazioni molto anticipate rispetto a quello che è il classico ciclo ciclo vegetativo del del tartufo che sono dovute essenzialmente a delle fasi eh favorevoli nella formazione e fruttificazione delle ife fruttifere quindi in questo schema voi vedete che eh per dire a giugno c'è il primordio per un fatto di condizioni pedoclimatiche questa ifa fruttifera con il primordio e poi con la fase poteggiata al posto di accadere a giugno è accaduta due o tre mesi prima per un fatto di contingenze dovute a precipitazioni microclima favorevole che poi avendo fruttificato in un periodo mh quindi diciamo che l'ifa avendo fruttificato in un periodo in cui non è proprio il suo periodo per una serie di fattori la maturazione viene interrotta la la genesi delle spore non è proprio eh completa come quella nei negli esemplari che vanno a maturazione nei tempi eh all'interno diciamo dei range temporali della specie e quindi si hanno queste manifestazioni molto superficiali che tendono a marcire eh spesso pieni di tramiti di dittero di larve di dittero eh che solitamente vengono trovati sono maleodoranti marciscenti e che e che troviamo in alcuni casi anche affioranti al terreno non so se ho risposto alla tua domanda Davide perfetto era quello era quello che ti sto chiedendo comunque sia mh ripeto quel 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 quei carpofori che vengono comunemente chiamati i fioroni che sono le fruttificazioni eh molto molto anticipate eh sarebbe il caso di allora non è che se uno le raccoglie fa niente di male alla tartufaglia parliamo parliamoci chiaramente perché dobbiamo anche sfadare un po' i falsi miti io se raccolgo il fiorone non faccio male alla tartufaglia a patto che li raccolgo col cane e che non vado a fare man bassa con i metodi poco ortodossi che abbiamo discusso prima il discorso anche qui è un fatto di senso civico e di senso di rispetto nei confronti della natura e nei confronti del tartufo e della pianta e della diffusione della specie perché i fioroni non hanno interesse alimentare particolare anche perché spesso in italia ci sono i calendari di raccolta che coincidono anche con i calendari di commercializzazione quindi teoricamente o te lo mangi oppure non ci puoi fare tanto altro con no esatto quindi adesso al di fuori diciamo dell'ambito legislativo che invito tutti a seguire perché insomma lo stato civile è fatto di regole se no sarebbe ci sarebbe l'anarchia ci sarebbe l'anarchia insomma quindi a parte questo ma dal punto di vista micologico biologico raccogliere il fiorone trovato al cane non danneggia la tartufaglia però anche se le spore che vengono prodotte spesso non sono del tutto mature però c'è una carica sporale all'interno di quei c'è una carica sporale all'interno di quei di quei carpofori che potrebbe essere diffusa da eventuali vettori animali cinghiali appunto gli stessi ditteri che se ne nutrono per poi svilupparsi e diventare dalla fase di larva insetti e quant'altro quindi io suggerisco di non prenderli perché di sicuro mangiare un tartufo con i vermi non è non è una cosa organoletticamente parlando consigliabile e prenderli così per per puro capriccio non fa altro che togliere qualcosa che in realtà potrebbe rimanere alla natura e contribuire alla diffusione della specie quindi questo è il mio è quello che penso in merito a a questa cosa secondo me davide puoi togliere la slide possiamo cominciare a parlare un pochino più propriamente del intanto prima di iniziare di entrare nel vivo della cosa faccio saluto ok salutanti davide toso daniele licco daniele nicco il tartufaglio gentile enrico strona ciao francesco cicaré ciao riccardo galeotti andrea peccolo simo corpo graziano brunetti clementina cudone emanuele orecchia marco di gennaro luca pristirao visto che hai fatto una domanda ma ti hanno anche risposto in chat sono d'accordo con la risposta che ricevuto graziano brunetti francesca seppitti giovanni maiorano e ciao a tutti allora entriamo nel nel vivo della questione quindi tartufo tuber uncinatum e tuber estivo allora tra l'altro davide questo è l'argomento in cui ci siamo conosciuti quindi anche per questo ci tenevo a precisarlo durante durante una diretta avrà come anticipato spesso si fa un po di confusione ma perché questa confusione perché di fatto la biologia e andando a restringere un po il dominio la micologia non è che sono delle scienze esatte in cui i limiti e i confini sono sono definiti in maniera in maniera univoca sono delle scienze che sono in sempre in in evoluzione e tanti punti di vista che sono stati introdotti negli ultimi anni anche dall'analisi filo genetiche quindi appunto attraverso attraverso l'analisi delle catene delle catene del dna ci sono sono con la ricerca scientifica sono sono state portate a luce tante scoperte che per dire 60 anni fa i micologi 60 anni fa non potevano delle conoscenze a cui non potevano avere accesso allora lo studio che ha portato un po di chiarezza negli ultimi anni in merito alla differenza o affinità tra tuber estivo e tuber e tuber uncinato come uno studio del 2004 che è stato condotto tra l'altro da degli italiani e che cosa ha visto questo studio praticamente mh sono stati presi dei vari areali di nascita sia di tuber estivo che di tuber uncinato sono state fatte tutta una serie di ragionamenti dovuti sia all'analisi al dna sia al alla fruttificazioni in vari periodi dell'anno è stato osservato che adesso la sto facendo molto molto rapida perché non è che si può sintetizzare uno studio di questo tipo in ma no ma fai bene a essere più in poche parole in pratica i risultati dello studio sono stati che il tuber uncinato il tuber estivo non sono due specie a sé stanti come in realtà anche la legislazione in merito ai tartufi ha sempre ha sempre sostenuto ma sono essenzialmente due morfotipi della stessa specie fungina ora per fare un po di chiarezza bisognerebbe parlare di che cosa è una specie e di che cosa e di che cosa è un morfotipo allora il concetto di specie non è un concetto facile perché ci stanno tanti tante specie specie chimiche specie biologiche però ecco in micologia la specie è la specie biologica il concetto di specie che cosa che cosa significa la specie racchiude tutti quei membri che condividono che condividono un antenato comune quindi il rapporto filo genetico che essenzialmente la filo genetica è quella branca e la genetica che studia i rapporti di parentela ancestrali quindi i membri di una specie che hanno l'antenato più comune rispetto ai membri di un'altra specie appartengono appunto all'interno di una specie il morfotipo invece è all'interno di una specie la manifestazione di caratteristiche morfologiche non proprie dell'habitus di quella specie ma che sono indotte da ragioni pedoclimatiche climatiche e quant'altro una sul morfotipo una un esempio molto calzante è quello delle forme nane delle piante che a questi stiamo in alta quota per dire se noi prendiamo un faggio a novecento metri avrà potrà diventare anche un faggio alto fusto adesso senza addentrarci in nell'argomento forestale dagli culturali però c'è la possibilità che si sviluppi e diventi un alto fusto se andiamo a millenovecento metri magari lo stesso faggio cresce vive tanti anni ma sembrerà poco più di un bonsai quindi ecco questo è il concetto calzante imorfo tipo ossia come l'ambiente quindi come il microclima e ragioni pedoclimatiche vanno a cambiare la morfologia di un di un membro all'interno di una specie lo studio che ha fatto ha dimostrato che dall'analisi del dna che tuber estivum e tuber uncinatum non sono due specie a sé stanti ma sono semplicemente due morfotipi all'interno della stessa specie quindi eh non ci non ci sono ragioni di carattere tassonomico che li differenziano ma ci sono ragioni soltanto di carattere ambientale che li differenziano che incide anche su eh la forma che hanno le spore perché molti sostengono che le spore tuber uncinatum proprio il nome uncinatum per eh gli albeuli molto pronunciati delle asco spore che ricordano degli uncini però ecco ma può essere per capire eh come dire c'è il bianco il tuber magnato un picco del tiglio e c'è quello della rovere hanno sì o uno che cresce in un clima piuttosto che in un altro può essere la stessa campo o comunque allora all'interno una specie allora la varietà di specie è un concetto un po' diverso da morfotipo nel senso allora io come come dico sempre sono un micologo per dire faccio un altro esempio micologico ci sta un fungo che tra l'altro è un fungo autunnale che si trova adesso è abbastanza ubiquitario quindi nei nostri boschi che si chiama tricoloma saponaceum che è un fungo che ha una variabilità di specie altissima perché si può manifestare marrone e grigio nero bianco azzurro quindi è un fungo che chi lo conosce lo riconosce anche se si mette il naso di carnevale per dire però è un fungo che ha una variabilità di specie molto alta molto molto elevata il morfotipo è diverso perché può essere definita adesso non me ne vogliono nei botanici nei biologi può essere definita come una variabilità all'interno della specie però fortemente indotta da delle condizioni al contorno climatiche territoriali non so se ho risposto alla tua domanda davide sì ma appunto però ti dico il è solo l'estivum che ha questa cosa la mia domanda era o tutti i tipi di tartufo possono avere morfotipi differenti all'interno della stessa specie era però semplificata col col tiglio e la rovere però per capirci sì allora possono averli però ecco qui ci riagganciamo ci riagganciamo al discorso che avevamo iniziato anche la scorsa volta ha preso un po di striscio che del della carica biologica del tubo restivo ma ora il tubo restivo ma è tra i tartufi commercializzabili quello con che si riesce meglio ad adattare alle condizioni climatiche alle condizioni del terreno al ph del terreno quindi è quello più resistente quello più robusto quindi anche il la condizione è più vasto esatto che possa fare molti tipi differenti esatto quindi questa è la diciamo un po la risposta a questa domanda tra l'altro volevo farti vedere una cosa che tu non sei piemontese ma alta guarda la ingrandisco un po vediamo se si vede però io sto messo il schermo intero la vedo bene aspetta eccolo qua te lo faccio noi abbiamo questo è il calendario di cerca del che a me fa morire perché abbiamo il tartufo estivo che apre il primo giugno e chiude il 31 agosto poi poi dal 31 agosto al 21 settembre è tutto chiuso e poi il 21 settembre apre il bianco inizia la stagione e poi l'estivo apre il 21 settembre chiude il 30 novembre mentre l'uncinato apre il 21 settembre come riapre l'estivo ma chiude il 15 marzo quindi il problema è che dopo il il 30 tra il 30 novembre e il 31 dicembre diventa non è semplice la cosa perché fai un buco e da fuori devi andare a capire dentro com'è il tartufo perché se lo tiro fuori allora sto prendendo io sinceramente alla fine vengo un po sul sul tuo discorso io ho almeno poi magari sbaglio però la mia distinzione l'unica distinzione reale che riesco a fare tra uncinato estivo sia senso sono le pasture in cui in estate non raccolgo e raccolgo solo d'inverno quindi le do per per uncinato mentre quelle che producono sia in estate che in inverno ovviamente magari cambiando anche le do per estivo estivo uncinato però l'unico sono certo di aver cavato un uncinato quando so che ci sono pasture che in estate non danno però si va un po sulla questione della reale sì esatto però io ti posso assicurare per esperienza personale che in in tartufaie adesso pasture come le vogliamo chiamare gergalmente di tuber estivum nei mesi invernali ci sono dei pianelli che fanno durante il periodo estivo e che continuano a produrre anche durante il periodo invernale non con la foga con cui produce una faggeta di quota quindi con l'abbondanza di raccolta con cui si raccoglie tuber uncinatum nel negli areali più propriamente evocati però dal punto di vista morfologico organolettico macro e anche microscopico sono a tutti gli effetti un tuber uncinatum che rafforza ancora di più il il concetto di quel cioè i risultati di quello studio e allora il fatto che la fruttificazione avvenga in un altro in un altro periodo quindi che la genesi dei garpo fuori sia traslata di svariati mesi fa anche sì che i corpi fruttiferi gli asco carpi abbiano le caratteristiche organolettiche macroscopico un po diverse cioè quando uno taglia un un tuber uncinatum di eh novembre di dicembre quel 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 corpo fruttifero ha una gleba con delle colorazioni che sono molto più accese molto più vive rispetto a quelle di un tuber estivum di agosto ma questo deve anche eh cioè uno deve anche pensare che quando si raccoglie il tartufo nero estivo le condizioni climatiche sono molto cioè di estrema siccità cioè io sfido adesso a parte particolari anni piovosi che poi magari ci regalano le sorprese per altri tipi di tartufi come il bianco però di norma eh quando si raccoglie il nero estivo c'è siccità i tartufi adesso non non dico che sono sempre disidratati ma mediamente sono più disidratati rispetto a i cucini di ottobre novembre dicembre che ricavano sotto la nomenclatura uncinatum questo anche a un punto di vista di caratteristiche di caratteristiche di odore o di di intensità del sapore e proprio di colorazione della gleba influisce molto perché comunque sia stiamo parlando di un accrescimento una maturazione in periodi in cui da un lato c'è siccità in quasi in tutte le regioni del paese sono tolte quelle strettamente alpine in cui in quei periodi magari non c'è siccità invece l'altro c'è ottobre novembre cioè novembre mese dei morti cioè storicamente piove sempre a novembre quindi cioè non so se ho ho trasmesso il concetto che volevo sì 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 quindi ecco il discorso quindi per assurdo se avessimo un'estate molto piovosa e più fresca del del solito il carpofori dell'estivo sarebbero potrebbero essere più simili a degli uncinati potrebbero essere potrebbero essere più simili perché e allora questo cioè il morfotipo è dovuto anche oltre alle condizioni climatiche anche all'abito di crescita cioè la forza che c'ha il tuber estivum o il tuber uncinatum perché adesso uno fa anche difficoltà perché sono essenzialmente la stessa cosa che si raccoglie in periodi diversi e che ha delle forme eh morfologi e di microscopia un po' diverse ma comunque sia sono due morfotipi quindi comunque sia il tartufo estivo nasce propriamente in degli areali con delle tartufaglie con delle pasture eh il tuber uncinatum in altre ma è proprio la ragione per cui il tuber uncinatum fruttifica ottobre novembre dicembre e quell'altro fruttifica quindi c'è il l'habitat incide così tanto sul fatto che eh quel quel morfotipo fruttifichi in inverno in autunno in inverno e quell'altro in estate che fare un raffronto un po' un po' complicato cioè è anche l'habitat che dà che conferisce questa variabilità all'interno di questa specie quindi dico dalle mie parti perché mi è capitato di parlare con persone del centro sud Italia appunto che che collegano molto anche l'uncinato a altitudini anche anche importanti io ti dico dalle mie parti per esempio l'uncinato e l'estivo eh vengono anche alla stessa altitudine senza dover salire così tanto però proprio ci sono delle delle tartufaglie che si attivano in inverno magari nello stesso bosco a distanza di cinquanta metri cioè stiamo parlando proprio dello stesso areale stesso clima stesso tutto certo sono delle pasture che si attivano in estate ed altre che si attivano a novembre che si vada ad agosto poi magari c'è l'esposizione diversa cioè ci sono cioè ci sono tutta una serie di micro variabili che abbiamo già detto che poi fanno la differenza però non di altitudine o clima precipitazioni perché sono proprio un accanto all'altra sì tra l'altro sono d'accordo su questo tra l'altro anche nella nella regione in cui conosco più posti per andare a tartufi l'uncinato come dicevi si esprime a quote un po' più alte però si trova anche alla quota comunque eh in quota collinare come quella che può essere che possono essere gli habitat di crescita e tartufo estivo il discorso che ho notato è che eh l'habitat dell'uncinatum eh cioè il tuber estivo un barancinatum che fruttifica nei faggi per ragioni appunto climatiche tende a manifestarsi in forma ad un cinatum proprio per un discorso di che la natura ha scelto che quelle condizioni sono le più favorevoli per farlo per farlo maturare in autunno e diciamo che la maggior parte dell'uncinatum che si raccoglie insomma dalle mie parti viene fatto in faggeta la faggete come distribuzione delle piante si fa in si fa più in montagna rispetto altre 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 piante quindi ecco anche lì il discorso della quota però c'è l'uncinatum si trova a tutte le quote allora c'è Enrico Salvatore che ha fatto una domanda ne abbiamo già parlato prima però questa è una domanda interessante e secondo me un pochino stasera e nelle serate che abbiamo fatto prima con Sergio siamo andati un po' a chiarire quest'altra quest'altra cosa perché appunto Enrico chiede quanto tempo passa da quando nasce il tartufo alla maturazione perché noi ci può capitare di passare su una tartufaia un giorno e trovarlo il giorno dopo trovarne un altro che il giorno prima non 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 c'era o addirittura nella stessa giornata può capitare c'è un momento in cui sicuramente l'emanazione diventa più forte però a questo punto provo a riassumere così Sergio mi dice se ho capito la questione quindi non è da quando nasce a quando matura ma nascono in un periodo che è antecedente e arrivano a maturazione in tempi diversi cioè probabilmente noi passiamo all'interno della stagione quando passiamo su una tartufaia i tartufi ci sono già e vanno a maturazione nel corso della della stagione non è che nascono nel momento in cui allora io su questa cosa sono tante perplessità che sto ancora cercando di farmi una mia idea a riguardo allora ci sta chi sostiene in maniera a mio avviso molto poco scientifica che il tartufo è come un palloncino che esplode e inizia e inizia ad odorare e sostengono questa tesi dicendo che passando con i cani due o tre cani in quel punto un'ora prima e poi un'ora dopo un'ora prima non avevano dato i cani anche cani di livello comunque cenno di sentire manazioni e poi dopo ci si fiondano però allora io a questo vorrei fare un commento uno due cento cani cioè non è che è scientifico che quel tartufo cioè che c'è passato il cane e che quel tartufo non odorasse quella mezz'ora prima ci sono passato i tre cani i tre cani purtroppo per noi non possono parlare non possono non sappiamo che hanno in testa in quel momento e magari sono passati hanno incastrato tutti e tre l'odore di di un grillo d'alpa dico per dire in quella contingenza lì si sono un po' distratti sono tornati dopo l'hanno trovato però ecco è molto difficile da dire quello che posso dire io dal punto di vista micologico barra scientifico e che come tutta che allora in natura in botanica e metodo in micologia ad eccezione di alcune rare eccezioni gli impulsi gli scatti i flash non si manifestano c'è una maturazione la maturazione inizia l'emanazione inizia ad impregnare il terreno quando raggiungerà un livello tale per cui quell'emanazione sarà quindi le particelle odorose gli idrocarburi tutti quanti i composti che conferiscono l'aroma che il cane può può agganciare l'emanazione che il cane può agganciare saranno anche diciamo volatili allora il cane lo sentirà fino a quel momento ci stanno tante sfumature uno dice il cane trova il tartufo che non profuma allora cioè quante volte raccogliamo un tartufo che il cane ha sentito e noi lo odoriamo e magari prima di tre quattro giorni tenuto dentro un barattolo non non da non da segni di vita capita spesso tanto siamo tutti gente che andiamo a tartufolo queste cose ci saranno capitate quasi a tutti questa cosa va in contraddizione con con il concetto che il tartufo è come un palloncino che prima non profuma e poi profuma quindi ecco le cose impulsive gli scatti in natura e micologia io tenderei ad escluderli c'è una maturazione c'è una gradualità con cui poi questa cosa diventa più manifesta e appunto l'emanazione può essere agganciata con più facilità dal cane ma il discorso empirico non provato che tante allora è capitato anche a me però c'è nel senso è anche vero che non ci sarà uno scatto ma ci sarà un momento x in cui l'emanazione arriva arriverà più leggera e poi diventerà più forte ma ci sarà un momento in cui arriva l'emanazione prima non c'era però assolutamente 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 che anche la ragione per cui c'è i cani c'è nel momento in cui iniziano a maturare le spore c'è il profumo che per noi è impercettibile per il cane è percettibilissimo e cioè il cane trova il tartufo semiacerbo che però un minimo per lui odora più maturo maturo maturissima poi capita anche che trova quelli totalmente marci e pieni e pieni di di larve quindi cioè io non non me la sento di dire che il tartufo matura in mezz'ora e c'è questa esplosione ci stanno dei fattori che possono facilitare l'emanazione dicono che nelle ore mattutine in cui inizia a battere il sole quindi ecco gli umori del terreno eh riprende un po' l'evaporazione e cioè ci stanno tanti fattori dovuti insomma al microclima che rendono più eh più evidente in maniera rapida un'emanazione altri che tendono comunque sia a rallentare la propagazione dell'emanazione del tartufo però ecco dire che una cosa come che uno batte le mani prima non c'era niente adesso c'è il tartufo non lo escluderei ecco ok allora Sergio siamo sempre appassionati le discussioni vado a guardare un po' la chat guardiamo un po' se ci sono qualche qualche domanda qualche considerazione allora Francesco Ciccare ci diceva io farei paragone con le albicocche ci sono quelle che maturano prima maturano dopo poi cosa dicevi fatto sta che anche odore diverso non nasce su stazioni di scorzone e però è un po' il discorso che facevamo prima relativo agli habitat differenti di cui per cui poi si differenziano i tartufi eh poi c'era Giovanni Maiorano volevo fare una domanda eh sono stati mai trovati tartufi che si sono micorizzati su specie all'ottone cioè non sulle specie arboree che vengono descritte in che senso? Tu hai capito la domanda Sergio? Allora eh un secondo che la rileggo volevo fare una domanda sono stati trovati tartufi che si sono micorizzati su specie all'ottone allora l'ottone quindi non sulle specie arboree che vengono descritte allora vediamo se ho capito prova adesso mi sfugge il concetto di all'ottono se dovrebbe essere il contrario di autoctono se il contrario di autoctono sì è chiaro cioè allora per dire la prima diretta che facevamo con Davide dissi anche spero di rispondere in parte anche alla domanda che potenzialmente le piante con cui i tartufi possono stringere delle dei rapporti simbiontici e quindi delle micorrize sono molto di più rispetto a quelle che poi andiamo a riscontrare in natura questo perché? Perché potenzialmente il fungo è compatibile con la pianta quindi quella pianta riesce a fornire al fungo quei nutrienti che gli servono per svilupparsi per crescere per fare il suo ciclo biologico idem la pianta la microclena gli aumenta il potere il potere diciamo di captazione d'acqua di captazione di sali minerali però poi per dire un un tartufo che fa in un fondo valle che potenzialmente è stato osservato che il laboratorio in vitro si stringe la micorrizza con la radice di una pianta che cresce sul cucuzzolo di una montagna quella cosa in natura non verrà mai manifestata quindi sarà un matrimonio che mai che mai vedrà la luce del sole ecco non so se ho risposto in parte alla domanda speriamo di sì anche di questa cosa ne avevamo già parlato però anche sulla questione uncinato possiamo anche riportarne abbiamo parlato per il bianco tra l'altro la domanda è sul bianco Enrico Salvadori chiede ma se ora piovesse molto potrà a dicembre esserci più bianco allora io rispondo e dico secondo me sì però ecco il discorso è va capito quest'estate siccitosa quanto ha fatto strace di appunto a bozzi primordiali come abbiamo visto prima nello schema quindi cioè nella fase primaverile magari è piovuto e l'acqua è bastata per far avvenire la genesi degli abbozzi primordiali quindi la genesi dei carpofori la siccità ha contribuito insomma a disidratare il terreno quindi scusate tante tanti diciamo microcarpofori sono stati seccati alla siccità va capito quanti se ne sono salvati e magari quanti cioè di quanti la genesi dei carpofori è iniziata in una forchetta temporale che ha rivisto le precipitazioni più copiose perché ripeto anche nello schema che abbiamo visto prima non è tutto sincronizzato con l'orologio il giorno 3 di marzo germina la spora il giorno 4 di giugno c'è la bozza primordiale comunque sia sono cose spalmate in un lasso di tempo quindi magari quelle che hanno quello che dicevi in una scorsa diretta che era un po' che le piogge a stagione iniziata le chiamavi piogge di accrescimento esatto quelle piogge che non più che generare nuovi tartufi vanno danno la possibilità di crescere a quelli che si sono creati in periodi precedenti del ciclo vegetativo sì poi tra l'altro non è proprio allora quella che per un un tartufo o per un carpoforo è pioggia da crescimento perché già entra perché già si è slegato dalla fase simbiontica e siamo nella fase saprotrofa per un altro può essere una pioggia di generazione proprio per il fatto che tanti tartufi bianchi maturano a ottobre tanti altri maturano a dicembre tanti altri maturano a gennaio anche se magari in tante regioni di d'Italia non è permesso andarci a gennaio ma maturavano a ottobre ok io vi assicuro che in tante regioni in Italia anche a gennaio si trova il tartufo bianco quindi ecco la cinesi dei carpofori non avviene tutta all'interno di un lasso di tempo ristretto ma è spalmata in più mesi quindi ripeto la siccità di sicuro avrà avrà alleso la maggior parte del raccolto di quest'anno però vuoi un po' l'habitat nei fondovalle dietro la radice sotto la pianta cioè il tartufo bianco secondo me soffre meno del tartufo nero preciato di Norcia quindi le precipitazioni adesso secondo me a fine stagione qualche sorpresa la faranno però poi questo me lo direte voi a gennaio insomma questo è il mio pensiero ma faccio una domanda ti chiedo un'opinione che non so se ci sono stati degli studi riguardo a questo però secondo te è possibile che in base i vari cambiamenti climatici che ci sono attualmente si possano spostare anche le stagioni cioè è più facile che il tartufo soccomba o comunque soffra molto o che si possano spostare invece il calendario del tartufo andando cioè che si adatti allora sì i cambiamenti climatici di per sé tendono a cambiare a cambiare le cose a mescolare un po' le carte in tavola non sono di per sé negativi per il tartufo nel senso che cioè quello che un tempo era una reale di raccolta col cambiamento climatico quella reale si può spostare si può spostare più a nord è un po' il discorso che si fa sul vino perché perché gli champagne fino agli anni 80 avevano pochissime annate buone perché dove si fa lo champagne che è il nord della Francia in quei tempi l'inverno erano molto più rigidi l'estate erano molto diverse adesso invece il clima si è un po' uniformato quelle zone si sono scaldate e ci sono molte più annate buone rispetto a quelle di un tempo adesso pare brutto a dirlo ma per lo champagne il riscaldamento globale ha fatto bene e quindi andando a vedere una nota positiva in una cosa che tanto positiva non è ci ha avuto questo risvolto nel tartufo sinceramente non so se è così però sicuramente andando a cambiare il clima quelle che magari erano zone più vocate diventeranno meno vocate e delle zone che erano più meno vocate diventeranno più vocate che poi anche un po' la ragione per cui si hanno anche leggendo la cronaca leggendo le informazioni dei ritrovamenti in Svizzera dei ritrovamenti in Francia comunque sia si sta lentamente spostando anche la reale del tartufo proprio per anche in Scandinavia raccolgono del nero no vabbè il nero sì il bianco non avevo non avevo di queste informazioni però la Scandinavia bianco non ancora esatto no vabbè il nero comunque diciamo che in Europa è una specie diciamo i tartufi a periodo ruvido neri sono abbastanza diffusi adesso stiamo restando più pregiato Giovanni Maioran la domanda di prima specificata dice intendevo piante arbore che non sono tipicamente quelle discritte in manuali ma specie importate da Asia o America sì sì allora per dire ci stanno delle piante micorizzate a tuber melanosporum con dei con delle piante del genere Quercus delle piante sempreverde adesso non ricordo che sono molto simili a Quercus Ilex quindi al leccio che però non sono leccio che sono delle piante importate che non sono piante che nascono spontaneamente in Italia e sono piante micorizzate che piantate in tartofaia se uno ha un po' il terreno buono e un po' di fortuna possono creare delle ottime tartofaie quindi sì il discorso è la pianta che stringe la micorrizza deve essere una pianta che deve trovare nel nostro clima un clima che le piace perché se poi andiamo a prendere una pianta che potenzialmente può stringere micorrizza ma in Italia non è che ci sta tanto bene torniamo nel discorso torniamo al discorso di prima che il tartufo sta bene ma la pianta no e il tartufo senza la pianta non può stare quindi siamo arrivati verso la fine ti faccio una una doppia una doppia domanda che si che torna un po' sulla questione più generale della dell'ecologia perché non tutte le radici possono essere simbionti ma solo alcuni tipi di pianta e altri non vanno in simbiosi quindi qual è la differenza tra appunto le piante che tipicamente sappiamo che vanno in simbiosi e altre diciamo no c'è una robinia non c'è andare quella non va perché la robinia e l'altra che va insieme è la questione della pianta con mare che anche questa è interessante e poi andiamo verso la chiusura che abbiamo ok sì sì ho capito entrambe le domande allora il discorso per cui non tutte non tutte le piante sono buone per stringere simbiosi con tutti i tartufi per dire tartufo bianco stringe con pioppo nero pioppo bianco rovere e quant'altro e magari non stringe micorrize con il pino con il pino nero è dovuto essenzialmente al fatto a un fatto biologico nutrizionale il il micelio si nutre di parte di nutrienti che quella pianta lascia trapelare nel terreno attraverso le cellule che compongono i tessuti radicali quindi se quella pianta cioè produce delle sostanze che non vanno tanto a genio al tartufo bianco il tartufo bianco dice ma sai che io stringo la simbiosi con una pianta che fa quei nutrienti che mi piacciono di più per crescere quindi la ragione è di tipo biologico non c'è cioè non c'è un'altra ragione è dovuta al fatto che il tartufo bianco ha bisogno di nutrienti che alcune piante sono in grado di dargli altre no e questo vale un pochettino per tutti i tartufi la seconda domanda invece Davide qual era le piante comare ah ok sì esatto allora il concetto di pianta comare è molto dibattuto dalla in tartuficoltura in micologia allora si definisce pianta comare quella pianta che pur non stringendo micorrize con il fungo però diciamo non è una pianta che va ad apportare problematiche nel ciclo vegetativo del tartufo mi spiego meglio cioè le piante che non stringono micorrize con il tartufo condividono l'habitat condividono in parte la zona di ramificazione radicale quindi noi possiamo avere una tartufaia faccio un esempio di tuber melanosporum e roverella a fianco ad un olivo e quell'olivo ha le radici che si intrecciano proprio in maniera molto articolata con quelle della roverella e quella diciamo quella convivenza non crea problemi al tartufo questo ha vari aspetti il primo è che quella pianta non produce sostanze che hanno degli effetti tossici sui tessuti del fungo del del vabbè ci siamo capiti del fungo ipoceo quindi del micelio e tutti i discorsi che abbiamo già fatto da un altro che quella pianta propriamente non va a stringere dei rapporti simbiontici con dei funghi antagonisti rispetto a quelli della pianta vicina che sono quelli con il nostro tartufo quindi il rapporto simbiontico desiderato quindi ecco quindi sostanzialmente la pianta comare non è spia della precedenza nel senso se vedo una rovere con di fianco una rosa canina non significa che ci sono più probabilità di trovare il tartufo allora io sotto la rosa canina io sotto la rosa canina ne ho trovati tanti tartufi soprattutto di tartufi neri estivi però c'era a fianco sempre una roverella c'era a fianco sempre un un cerro c'era a fianco però tu sostanzialmente quello che stavi dicendo è che non vanno in competizione con cioè non creano danni al tartufo ma non portano neanche sostanzialmente benefici no un'altra cosa è che la pianta comare propriamente vive in degli ambienti che piacciono al tartufo quindi la rosa canina ha vecita in degli ambienti che mediamente piacciono molto a determinate specie di tartufi però cioè la rosa canina fa anche a molti altri funghi piace calocibe cambosa ci sono tanti altri funghi che predicono le piante spinose anche il tartufo bianco con la spina nera sotto la spina nera si trovano tantissimi tartufi bianchi però ecco cioè il concetto di pianta comare è una pianta che condivide gli habitat delle piante che stringono legami nutrizionali tipo simbiontico con i tartufi non sono dannose per il tartufo e convivono bene con quelle piante quindi non so se ho risposto alla domanda curiosità personale Daniele Nico il tartufo stringe legami con un singolo albero o può legarsi anche a due o più alberi nelle sue vicinanze bella domanda questa è una bella domanda perché lascia anche spazio a tante interpretazioni trasversali oltre che di tipo micologico anche di tipo un po' più elevato adesso non mi voglio azzardare con termini impropri e azzardali no di tipo diciamo un po' della filosofia di questo genere di cose perché del tartufo di quello schema che ho trasmesso prima mentre in altri funghi superiori il ciclo vegetativo e soprattutto riproduttivo è stato descritto e spiegato per gli ascomiceti del genere tuber e per gli ascomiceti in genere ci stanno ancora degli anelli mancanti nella catena cioè noi sappiamo che gli ascomiceti si riproducono per riproduzione asessuata per gametangiocamia per gametocamia in base alle condizioni in base poi torna la domanda però non si sa il motivo per cui quando si avviene la gametangiocamia a scogomio anteridio si vanno a creare in quelle determinate ci stanno tante cose che la scienza ancora non ha spiegato tra l'altro ci sta mi riaggancia la domanda per dire che sì i tartufi si possono diffondere anche di pianta in pianta per riproduzione diciamo asessuata ossia per prolungamento del micelio il micelio cresce nel terreno va tra virgolette ad infestare l'apparato radicale di una pianta limitrofa e dal punto di vista genetico quella pianta sarà un clone sarà geneticamente identica a quella della pianta di provenienza questo ha un interesse anche al punto di vista organolettico che questa cosa fa anche tra virgolette scopa con il concetto che i tartufi di una determinata tartufaia hanno delle tendenze di odore di sapore di colore per me allora a me è capitato spesso che in alcune tartufaia di nero preciato di norcia i tartufi avessero il periodo molto molto liscio quasi quasi simile al nero liscio e continua ad essere così a distanza di anni e anni in altre hanno il periodo molto più berrucato quella è una è una chiara è una chiara espressione del fatto che quelle piante di quella di quella tartufaia si sono micorizzate quasi tutte per perché il micelio ha camminato e ha creato vari pianelli all'intorno però di per sé quella tartufaia è fatta allo stesso individuo cioè dallo stesso individuo biologico dallo stesso dallo stesso micelio che nel corso degli anni è rimasto sempre lui non è stato sporcato sporcato cioè non è stato non sono stati introdotti geni di altre tartufaie non so se ho risposto un po' alla domanda siamo arrivati verso la fine io vi ricordo che anche durante la diretta già potete se il contenuto vi sta piacendo cliccare su mi piace sul pollicione in su o anche in giù così almeno abbiamo un feedback positivo negativo comunque questo aiuterà a circolare un po' di più a far circolare un po' di più questi video quindi vi invito a farlo e come ricordavo all'inizio se non siete iscritti al canale iscrivetevi allora Sergio io ti ringrazio molto anche per questo mercoledì insieme per averci dedicato un po' del tuo tempo ti ringrazio a nome anche di tutti le persone che sono passate come sempre numerose vediamo quante le sono passate stasera alla fine tra tutto sono passate più di 200 persone comunque in diretta adesso siamo rimasti in una trentina di affezionati grazie mille e buona serata buona serata a tutti grazie per averci seguito ci vediamo mercoledì prossimo con Sergio ciao a tutti